Giro, ma ti vedi più meglio, vai a papà come stai facendo la tua figlia? ma secondo te è giusto quello che stai facendo? mi vuoi far fare quel motore? questo è un motore 4 tempi 200 modificato elaborato e fatto con le mie mani vedete? con le mie mani vedete? questo è un motore elaborato fatto doppio cilindro a scoppio fai uno fatemi fare con le vostre mani fatemi fare soldi non tengo ma tengo passione è meglio di soldi di soldi per finire di mettere sotto la terra che tiene a fare? speranze che vanno speranze che vanno se c'è la fortuna mia speranze che vanno speranze che vanno e verità no giugate a vella sui numeri fortunati speranze che vanno a tutti si vanno vai si vanno pure le pesce vedete? queste sono pesce al motore speranze che vanno speranze che vanno speranze che vanno speranze che vanno cosa c'è? il taglierino l'hai mangiato? non ancora non è che fanno le ultime mani vedi le mani speranze che vanno